ciao a tutti in numerosi video abbiamo parlato dei moduli aggiuntivi della rimappatura della centralina del confronto tra moduli e rimappature però in molti casi mi viene chiesto cosa condiene fare per risparmiare carburante no niente nessuna delle due cose e queste operazioni e nel caso della rimappatura o prodotti nel caso del modulo servono a far andare l'auto più forte quindi agiscono sulla potenza garantiscono la potenza in pratica tu compri potenza puoi avere come effetto collaterale è vero una riduzione dei consumi un'ottimizzazione dei consumi ma non compri questo tipo di prodotto servizio per migliorare i consumi è un qualcosa che si può riscontrare e spesso si riscontra diciamo è un piacevole effetto collaterale ma siete fuori strada se comprate questi prodotti per risparmiare carburante per risparmiare carburante come avevo detto in un altro video e la cosa più semplice da fare è chiaramente avere una buona manutenzione dell'auto quindi assicurarsi che il lubrificante sia fresco i filtri siano puliti questa veramente è la prima regola e quella base per assicurarsi il corretto funzionamento dell'auto quindi farla funzionare senza particolare sforzo ottimizzando sin da subito i consumi per video come questi e per i nostri prodotti continuate a seguirci sul reparto corse e in particolare instagram youtube facebook e tik tok e anche sul nostro sito chiaramente www.repartocorse store.it alla prossima ciao